Che diritto hanno gli sceneggiatori di cambiare un'opera letteraria? E che diritto invece ha il pubblico di difendere quell'opera letteraria a cui è affezionato? Sono domande di non poco conto, sulle quali tutti noi dovremmo interrogarci e che tornano prepotentemente alla ribalta, soprattutto in questi tempi, quando ci troviamo di fronte alla nuova serie televisiva del Signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere, prodotta da Amazon, che ha fatto un grande parlare di sé. Premessa, io non voglio in alcun modo boicottare la serie. Non sono di quelli che invita tutti gli altri a fare azione di disturbo. Anzi, io sono il primo a dire che vedrò la serie, perché in fondo noi stiamo parlando del nulla, lo riconosco, stiamo parlando solo di anticipazioni e di congetture. Aspetto di vedere il prodotto finito. Certo è che quello che per ora abbiamo fa riflettere. Ci sono state mostrate una serie di elementi preoccupanti, perché del tutto acanonici rispetto all'opera di Tolkien. E stiamo parlando di un'opera che si chiama Il Signore degli Anelli. Un problema non indifferente, perché Amazon ha comprato i diritti di quell'opera e si rivolge esattamente al pubblico di quelle opere, facendosi forte del nome di Tolkien e del Signore degli Anelli. Un brand di sicuro impatto. Amazon si è fatta bene i suoi calcoli, ma ha prodotto qualcosa che ha lasciato molti, tra il dispiaciuto e il costernato. E non mi riferisco solo all'elfo Silvano di colore e alla principessa Nanica di colore di Khazad-dûm, che sembra Retta Franklin. Ci sono degli altri particolari molto preoccupanti, come Galadriel, la principessa guerriera, un misterioso uomo che le tocca i capelli, una cosa assolutamente insensata, se si pensa al valore dei capelli di Galadriel, che neppure Feanor poteva toccare, una comunità di proto-hobbit nella Seconda Era, quando gli hobbit in realtà appaiono solo nella Terza, e anche piuttosto avanti, e un misterioso meteorite che porta sulla Terra di Mezzo un ancora più misterioso personaggio. Il sospetto di trovarci di fronte a una grandissima e costosissima fanfiction è sempre più reale. Ci sono anche dei particolari del tutto risibili, come per esempio il nome Elanor di una dei membri della comunità di proto-hobbit che vedremo all'interno della serie televisiva. Un nome assolutamente dato a caso, aprendo il Signore degli Anelli, così, mettendo il dito su una delle pagine, anche perché si capisce che gli autori, che si definiscono Tolkieniani, o comunque studiosi di Tolkien, ignorano il fatto che Elanor è il nome che viene dato alla figlia di Sam, e che c'è un preciso motivo etimologico, culturale, e che per cui viene chiamata così. Mi rendo anche conto che queste mie considerazioni lasciano un po' il tempo che trovano, dal momento che Amazon ha già vinto. Il trailer, le prime immagini, l'articolo su Vanity Fair sono stati un assoluto successo. Tutti hanno parlato di questa serie, tutti e soprattutto persone che non hanno mai letto Tolkien in vita loro, quindi l'obiettivo è stato pienamente raggiunto. Ad Amazon sono dei geni del marketing e di certo io non gli devo insegnare nulla. E si è fatto un gran parlare della liceità da parte di Amazon di intervenire sul materiale di origine e alla fine si è spiegato che in fondo gli sceneggiatori produttori avevano tutto il diritto di farlo e in molte si sono rifatti addirittura a una lettera dello stesso Tolkien, la lettera 131 nella quale Tolkien parla dell'origine del suo Legendarium, di come si è messo a scrivere le storie riguardanti la Terra di Mezzo, Arda, il Signore degli Anelli e tutto il materiale del Silmarillion. Tolkien in questa lettera scrive Avrei stilato completamente alcune delle storie maggiori e molte altre le avrei messe da parte posizionandole nello schema e abbozzandole. I cicli sarebbero stati legati a un tutto maestoso eppure avrebbero lasciato libertà di azione ad altre menti e mani che praticassero il disegno, la musica e il teatro. Insomma, Tolkien stesso dava la possibilità di interpretare la sua opera come gioco partecipativo invocando proprio l'intervento da parte di altre persone, i fan. E quindi questa stessa lettera di Tolkien di fatto autorizza a una riscrittura del materiale originale. Insomma, gli sceneggiatori avrebbero tutte le carte in regola per poterlo fare. In fondo anche Peter Jackson ha fatto la stessa cosa quando ha realizzato la prima trilogia cinematografica basata sul Signore degli Anelli. Anche in quel caso Peter Jackson ha operato una vera e propria riscrittura del romanzo di Tolkien. Tutti noi sappiamo che il film di Jackson non è la pedissequa di proposizione del libro di Tolkien. Ci sono delle modifiche. Per esempio, Jackson è intervenuto inserendo nel flusso della narrazione degli eventi che si trovano solo all'interno degli appendici come il famoso caso dell'amore di Arwen e Aragorn. Oppure è intervenuto per cancellare alcuni episodi o personaggi. Ha cancellato per esempio il personaggio di Tom Bombadil o ha cancellato l'episodio del Repulisti della Contea quando gli Hobbit tornano a casa e aiutano i loro simili a scacciare Saruman e i suoi scagnozzi. Quindi anche Peter Jackson ha raccontato la stessa storia di Tolkien ma in una chiave nuova. In un modo nuovo. C'è però un'altra lettera molto interessante la lettera 210 nella quale Tolkien affronta il progetto di riduzione del Signore degli Anelli per un film di Hollywood. E in questa lettera Tolkien è molto duro perché interviene commentando tutte le scelte dei sceneggiatori. E Tolkien scrive i canoni dell'arte narrativa in qualsiasi mezzo di comunicazione non possono essere completamente diversi e l'insuccesso di un brutto film spesso sta proprio nell'esagerazione e nell'intrusione di materiale ingiustificato che capita quando non si percepisce dove sia il nucleo originale della storia. Insomma se si vogliono apportare delle modifiche oppure delle aggiunte rispetto al materiale originale è lecito farlo purché si rispetti il materiale di origine e soprattutto le leggi che l'autore ha dato per la regolazione del mondo da lui creato che è un po' la stessa cosa che in fondo ha detto il grande studioso di Tolkien Tom Schippie nella famosa intervista alla Deutsche Tolkien Gesellschaft quella che gli è costato il posto da consulente della serie televisiva di Amazon che l'ha licenziato perché si è preso un po' troppe libertà in questa intervista Schippie ha detto chiaramente che Amazon aveva la facoltà di inventare e di tappare i buchi laddove Tolkien non è intervenuto per spiegare cosa era successo relativamente a certi personaggi a certe situazioni ma sempre nel rispetto del canone tolkieniano perché bisognava comunque essere tolkieniani e rispettare il canone quindi essere canonici nella stessa intervista Schippie si è lasciato andare all'indiscrezione che per Amazon la prima e la terza era erano off limits e che si poteva intervenire solo nella seconda basandosi sul materiale presente nell'appendici del Signore degli Anelli e da quello che poi si è saputo effettivamente è andata come diceva Schippie Amazon non ha i diritti del Silmarillion e quindi sembra che per la creazione di questa serie televisiva che sarà basata sulla seconda era si è dovuta accontentare di prendere gli elementi che sono nelle appendici del Signore degli Anelli e di creare tutto il resto quindi probabilmente hanno preso nomi personaggi situazioni eventi e poi tutto il resto se lo sono dovuti inventare operazione lecita visto che in fondo hanno fatto così anche molti videogiochi la battaglia della terra di mezzo due o l'ombra di Mordor non hanno fatto altro che sviluppare in maniera più o meno canonica il materiale presente nei romanzi di Tolkien anche in base alle licenze ricordiamo che i videogiochi in fondo hanno sempre avuto la licenza di sfruttamento del materiale presente nel Signore degli Anelli ma come diceva Schippie l'importante è attenersi al materiale originale non lasciarsi andare troppo ai voli della fantasia perché è vero che stiamo parlando di fantasy ma non è che perché una cosa è fantasy allora va bene tutto che nel fantasy si può fare quello che si vuole e che le regole non contano anche perché stiamo parlando di Tolkien una persona che ha passato la vita a spaccarsi la testa per conferire profondità e coerenza alla sua creazione al suo mondo cesellandolo fin nei minimi particolari adesso io non mi aspetto che la serie televisiva rifletta sulle genealogie degli elfi dei nani e che spiega agli spettatori tutte queste cose ma non ci si può neanche limitare a chiedersi se è importante la carnagione degli elfi perché è una cosa che non significa niente il problema non è il fatto di avere un elfo silvano di colore o una principessa nana di colore il problema semmai è avere questi personaggi di colore in maniera del tutto decontestualizzata non rispettosa del materiale originale non è una questione di razzismo io stesso mi sono sentito rinfacciare che sono fondamentalmente un razzista fascistoide perché me la prendo con un elfo nero e probabilmente me la prendo anche con l'idea di un attore nero o di un attore gay a parte il fatto che queste accuse di fascismo ormai lasciano un po' il tempo che trovano perché sono le classiche accuse di chi non sa che cosa controbattere voglio ricordare a tutte queste persone che la pensano così che nelle trilogie cinematografiche di Peter Jackson gli attori che hanno interpretato Gandalf Tranwill e Bard sono tutti e tre gay e questo non ha mai costituito un problema per nessuno anzi tutti i fan credo al mondo amano questi personaggi e non si sono mai scandalizzati di questa cosa piuttosto il problema è come questa serie è stata veicolata come Amazon ha deciso di pubblicizzarla nel mondo certo l'hanno pubblicizzata in un modo scientifico l'hanno fatto a caso ma è chiaro che non tutti l'hanno presa bene perché fondamentalmente hanno detto che giunti al 2022 Tolkien doveva venire svecchiato doveva venire aggiornato ai problemi dell'oggi i problemi del politicamente corretto si è detto che Tolkien è morto all'inizio degli anni 70 che ha scritto in un'epoca molto diversa dalla nostra e che quindi il suo materiale deve venire reinterpretato deve venire calato nella nostra realtà che è una realtà brutta sporca e cattiva di razzismo mentre ai tempi di Tolkien questi problemi non c'erano o si volevano negare e siccome gran parte dei fan sono insorti allora si è subito corsi ai ripari accusando gli stessi fan di essere fondamentalmente dei trugloditi dei fanatici dei membri di una setta pericolosa addirittura di essere dei leoni da tastiera dei tossici e dei razzisti si è anche detto che la serie non è indirizzata al pubblico tolkeniano ma a tutti gli altri e che noi invece membri di questa setta fanatici e leoni da tastiera avremo sempre i libri di Tolkien quindi ci bastino quelli giriamo alla larga dalla serie televisiva per tacere poi del mitico filmato dei cosiddetti autoproclamatisi super fan quattro scappati di casa che Tolkien non sapevano neanche chi fosse non so voi ma io questo atteggiamento di denigrazione del fandom non lo posso accettare non mi piace sentirmi dare del dinosauro spiaggiato o del giurassico che si deve aggiornare perché è il 2022 perché tanto è fantasy e quindi va bene tutto che è un po' quello stesso atteggiamento che hanno molti autori di saggi nei confronti dei fan di Tolkien che esattamente come quelli di Star Trek si mettono anche loro come Tolkien a creare vocabolari grammatiche e glossari ignorando il fatto che anche Tolkien faceva così e che tutto il leggendario un tolkieniano la sua narrativa deriva proprio dalla creazione delle lingue e dallo studio delle etimologie lungi da me il voler dipingere il fandom come un'unica realtà in cui tutti la pensano allo stesso modo il fandom è molto variegato e prevede al suo interno persone che la pensano in maniera diversa che si occupano di cose diverse però questo disprezzo nei confronti di tutte queste persone è palese e non è possibile veicolare Tolkien come sta facendo Amazon per la sua serie televisiva solo all'insegna dell'inclusività della rappresentatività e dei temi del politicamente corretto è evidente un certo fastidio da parte di una certa intelligenza nel mondo americano nei confronti di Tolkien perché lo considera continuamente come un autore fondamentalmente razzista reazionario che deve essere svecchiato ci devono pensare loro gli illuminati a farlo passare per qualcosa di buono loro garantiscono per la qualità del prodotto non bastava Tolkien e in questo modo ignorano che Tolkien ha affrontato le problematiche dell'inclusività del razzismo degli scontri culturali sociali etnici e anche del superamento di questi scontri molto meglio di loro e di quello che loro potranno mai fare forse bisognerebbe interrogarsi maggiormente sul rapporto tra realtà e invenzione all'interno di un'opera come quella di Tolkien c'è una dialettica tra la fuga dal reale e l'invenzione come reinvenzione del reale era una cosa di cui era conscio lo stesso Tolkien che nel suo saggio sulle fiabe mette in guardia tutti da non confondere l'evasione del prigioniero con la fuga del disertore sono due cose diverse evadere dalla realtà può essere legittimo se questa realtà non ci piace e non significa che evadere da questa realtà significa separarsi dai problemi del reale della quotidianità per questo l'opera di Tolkien presenta una molteplicità di temi anche morali ed etici che rispecchiano perfettamente quello che era il suo tempo e quello che è il nostro tempo e quindi per tornare alla domanda iniziale è lecito per gli sceneggiatori cambiare un'opera letteraria ed è lecito per il pubblico protestare perché non è d'accordo io credo siano lecite entrambe le cose a una condizione che gli sceneggiatori si mettano di fronte alla loro coscienza che non sia solo quella del dollaro e dell'incasso facile e che mantengano anche molto più rispetto per il pubblico che sarà fatto di persone che probabilmente appartengono al giurassico e che devono svecchiarsi ma che alla fine amano molto di più il materiale di origine e l'opera di Tolkien di quanto dei produttori di televisione potranno mai fare